un bel muro in cartolgezzo pronto all'irruzione tornate a occuparvi del contenitore dopo averne neutralizzato l'aminanza un operatore alleato rimasto attività nemica neutralizzate la minaccia e proteggete il contenitore difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti l'entrata principale è la pf proprio anche se ne muore qualcuno ne prenderemo l'altro arriva e prende sopravvento sì ma non va bene perchè non ho non lanciarazzi non posso far saltare i muri c'ho back mh che allora perchè da questo lato cazzo oh wow mi fa spodre la testa vale ti sei teletrasportato davanti a me no saliamo da sopra ma allora si può fare abbastanza veloce io sto dentro già io andai thanks ma stai ma perché sembrare fate sembra di un genghiko at れて non fa niente ma va al kiri almeno ma il kiri nel retro nel retro eh non so come spiegarti l'ingresso della non userò mai pack definitivo non ce l'ho creato no ho spaccato il drone sono senza pulizia andate a curto fermi curto andate a curto zetti almeno 25 zetti si si spara giù se vai oh che cazzo io ho fatto ero convinto di avere la carica scusa c'è la telecamera di valkyrie sulla porta l'ho buttata a terra e il terreno a destra no dove hai la carica giù c4 c4 sulla porta giuseppe sull'altra sull'altra porta sull'altra scuola lì dopo questa qua ah all'interno sulla porta era lì a destra eh giusem a destra a destra la sopra sopra si a destra dietro ho diventato lì minchia si si c'è ancora palsi in giro eh ma ma fanculo ho sempre lui mi fa che l'hanno pure restato ehi ehi quello è bandit ma palsi dov'è? ehi nooo sta dietro il divanetto proprio dietro il divano dove sono morto io arriva da dietro ciò se no non farlo è lì dietro lo senso si 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 è lì 15 secondi eh oh buttati che è morbido sto punto dietro questo divano no è dentro la stanza non lo vedevo non era pals questo ma co ma io li vedevo tutto tutto chiuso minchia al maniaco sei materializzato totale totale oh minchia questo è un buon modo per cominciare sai giuseppe non mi è mancato giocare con te mettiti la charge a me significa che c'è una granata di tanto a te devo dire alla hruckbar che puoi farlo oh c'è pure Ash nelle stanzi sono in tre nelle stanzi doppie un operatore alleato merda come t'ha fatto arrivano tutti e tre e quattro fiozza assurdo cosa? vediamo il punto di vista di curto mentre muore perché devo morire fai ace vai ho pure finito il c4 dalla rabbia che avevano che si sono uccisi per farti fuori guarda che rabbia madonna anche come si è accasciato merda sento cabe che lì c'è una finestra se ti sparano io mi metto nello sgabuzzino ok io mi metto qua ok la botola fede ah si vabbè ce l'ho stato tiro la botola è arrivato un drone dove? nella stanza dove sono io è esplosa la botola è esplosa la botola sanno dove sono dove sono dove siamo c'era il drone ok ha sfondato ok ha sfondato porcù merda mi hanno sflocato raga stai lì stai lì stai lì stai lì da me non sta arrivando nessuno probabilmente ti scende da te hai curto dalla botola tienila d'occhio e c'è la fede là dentro si ma non la botola che si è aperta io sto guardando un'altra botola in realtà che è di fianco si no 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 eh stanno entrando dalla mia botola raga c'è la mia botola dove sono io ce n'è uno è uno da solo si si è solo termite tanto ce l'abbiamo tutti sul tiro no merda gli ho sparato in faccia ma mi ha ammazzato è entrato da sopra dalla botola di sopra ok a te curto verso sinistra sinistra che infame madonna sinistra in fondo in fondo in fondo merda eh merda io guardavo fuori dalla finestra eh ti ho detto sinistra sinistra eh io guardavo dalla finestra poi me lo sono ritrovato lì guarda che non t'ha visto che coglionazzo ma pure io non l'avevo visto cioè poco fa di chi l'avevano ferito l'ho arrestato io dovevi farlo tu eh vabbè ma si eh ok ma si chiama se sono dall'altra parte della mappa e arrivo là può essere anche che mi fanno inutilmente e che medico sei se non rischi vede ho capito ma è molto meglio è molto meglio guardare una botola da cui molto probabilmente entrano piuttosto che andare all'impazzata rischiando di essere uccisa vabbè guarda che cazzo sono non parlo più sono dovremmo a noi ma dall'altra parte ok l'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla thank you thank you perfetto attenzione agli spawn kill eh qua è molto provabile ok lo sai vero si lo so fede oh anche io voglio arrampicarmi cazzo sei spider man se attenzione eh eh qua è molto probabile che tentino di fare qualche minchia eh li ti possono anche esatto siamo stati spottati c'è una telecamera un bel termite lì se ce la fate hai ferito qualcuno oh ma l'incazzo hai fatto vabbè riesci a sfondare lì quanto è l'amite qua qua lì 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 dove dite io lo sflonca non riesco eh no perché è fortificato no è rinforzato quello lì lo apro si ok ci conviene ci conviene muoversi non c'avete una botola da fare voi sotto ce l'ho io una botola qua carica eh marda curto che fa la merda la merda se grida curto cioè minchia non puoi praticamente avvicinarti allora c'è jager proprio dietro la bomba c'è anche frost dove avete sfondato data all'inferno che accordo cornuda c'è frost te l'ho preso frost è più a destra esatto è lì merda no porco ma dai ma che cazzo no è ricchi ma dai ma sta ma vaffanculo che successo occhio occhio dai sono caduto giù dal palazzo mamma mia che rinforzato di rio si ma che cazzo sei morto sono già morto prima qualcuno mi viene a tirar su cerco di arrivare non c'è andare non c'è andare non c'è andare muori e tanto hanno rotto la tua destra figa eh figa si asce veloce ce la dovrebbe fare se corre io capisco ma se corro lì in mezzo mi fanno sicuro come loro no 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 vai vai fai il giro ormai ormai sono andato no 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 non è andato ce la fai ce la fai ce la fai minchia eh sto laggando cristo dai cazzo ce la fai 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 no ma cazzo no mi è morto davanti alla faccia eh te l'ho detto ero su di lui ero su di lui dai mi chiamai che coglione arrambicati da qua stesso arrambicati da qua vai da qua stesso arrambicati da qua stesso dai da qua stesse ah guarda dove sono caduto cazzo c'è sono riuscita a non morire ho raggiunto Ricky mi è morto sui ai piedi dai c'hai 20 secondi per ammazzare occhio che c'è Frost che ti guarda eh vabbè tanto che cazzo faccio vado giù alla Rambo ma si vado giù alla Rambo tanto si subito si destra ma cosa nooo ci credo Frede però minchia ma tanto ero già morta vedevo se stanno in piatto avevo uno di vita no ce la potevi fare dai eh oh eh io avevo due di vita avrò avuto vabbè eh oh senti mi sto zitto io sono strunzo io per non ti preoccupare eh eh cazzo tranqui tranqui ok c'ho un drone Fede mi curi per favore si aspetta 5 secondi dove sei? sei davanti a me vado davanti a te thanks la squadra d'attacco una delle prime volte che giocavo mi hai sparato in testa a uno si a Giuse lo dovevo restare ho sbagliato pistola l'ho sparato in testa eh c'ho la registrazione di quella kill Fede madonna che fine che ha fatto Giuse via non vi alzate rimanete a terra yeee la danza che quello volevo fare eh grazie merda merda yeee lo rifaccio adesso Giuse vieni più in qua vieni più verso di me cazzone dove hai vai l'hai visto però a me mi avevi restato correttamente poi con Giuse non so cos'è andato storto ho scambiato pistola e pensavo fosse quella ancora giusta da qua dietro non possono passare si c'è la botola merda attenzione eh è un po' stronzo come punto lì dove? dove ho pingato qua lo chiudiamo nel dubbio qua ho finito le pareti beh stanno scendendo eh infatti beh bravo era cozzo era che montagna era montagna infatti attenti mi hanno sfondato state attenti non li becco non li becco cioè li vedo ma non li becco dov'hai doc? attenzione sono io doc attenzione curto attenzione mi servo anche a me un'iniezione grazie no ho finito le munizioni cazzo mi siete fatti curare tutti c'erano 15 secondi tanto c'hanno 15 secondi adesso arriveranno va dietro di me dietro di me dalle scale dalle scale a terra ascia cazzo cazzo madonna quanto casino che fai sorri minchia il monzone cazzo si hanno fatto un buco lì ma cosa mi spara infatti da sotto no c'è cavera dall'altra l'altro edificio sotto 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 con la pistola lo sai che la berezza toglie 99 da 5 metri ah da 5 metri no ma ho preso proprio in c'è un altro sotto grande curto minchia che riflessi no con lo spavento l'ho fatto c'è cavera e un altro libero no cavera è morta l'ha fatta a curto eh ce n'è un altro allora ottimo raga venite entrate uno veloce credo cerchi di prendere l'ostaggio eh ola è là non aveva detto no 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 nello mezzo alle due porte sì sì aspetta che esca chi altro può venire? è là è là eh dove? è là in mezzo ai due due stanze merda l'era 30 secondi chi altro può venire? eh smoke chi è smoke? ah dico di noi no se solo vuoi due poi cosa che afferro vabbè fai smoke 15 secondi rimangono 10 secondi no 5 secondi ma muoio vai vai prendilo prendilo corre 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 addio ma preso dai che l'ho struito eh muoio oh ma cosa eh oh game over yeah Grazie a tutti